Campagna elettorale per le politiche alle battute finali, mancano ormai pochi giorni al voto e i candidati sono pronti ad affrontare la sfida per il Parlamento. Michele Iorio, candidato al Senato per il centrodestra, traccia il bilancio della campagna elettorale che sta per chiudersi e rilancia le proposte destinate al Molise. Ha una campagna elettorale breve ma intensa, perché abbiamo inteso presentare i nostri programmi, le nostre idee e abbiamo suscitato notevole interesse tra la gente che ci segue sempre di più, sempre in massa. Io credo che il risultato non mancherà, anche perché il Molise ha compreso che questo momento è molto delicato, è molto importante per il suo futuro. E il centrodestra ha le carte in regola a livello nazionale e a livello regionale per poter rappresentare una valida alternativa alla situazione attuale. Ecco, lei è stato presidente di regione, è stato anche già senatore. Cosa l'ha spinta a tornare nuovamente in campo? È l'interesse per la mia regione. Io credo che questa regione ha bisogno di essere rappresentata in maniera diversa a Roma, perché è stata assente su tutti i tavoli che contano, perché è stata una regione assolutamente bistrattata, offesa in molte occasioni, addirittura nella sua dignità. Si è parlato di aggregazione con altre regioni, si è parlato di un Molise che non esiste. Io credo che il Molise ha bisogno di riprendere un cammino che è stato interrotto in questi anni, ma che può rappresentare davvero per il futuro una buona, ottima occasione. Ecco, l'euro parlamentare del PD, Cozzolino è stato qui a Campobasso, ha detto che bisognerà portare avanti quello che il governo attuale ha già messo in campo, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione. Lei è d'accordo? Hanno fatto tutto quello che bisognava fare? Ovviamente no, anche perché non hanno messo in campo proprio nulla. Io non credo che ci sia un solo progetto che meriti una particolare attenzione, che sia intitolato all'attuale centro-sinistra. Io credo invece che questo centro-sinistra litigioso ha guardato solo agli aspetti personali, ha discriminato i cittadini tra buoni e cattivi, ha diviso anche le aspettative dei precari, dei cassi integrati. Non c'è un'impresa che è nata sul nome di questo governo regionale e quello nazionale non ha mai aiutato effettivamente il Molise.